Ragazzi buongiorno, siamo qui su Minecraft, Minecraft, sottilette Minecraft. E stiamo giocando, al momento non c'è nessuno, facciamo gioca, gioca, allora, questo lo cancello, no, questo lo cancello, come si dice? E lì, mi no, e niente, siamo qui a giocare, facciamo una piccola partita e poi si scende, poi vedrete, poi vedrete, poi vedrete, poi vedrete, poi, poi, poi. Allora ragazzi, sapete che abbiamo una valigetta umana, una valigetta canina. Madonna mia, vieni qua. Ed ecco la 24 ore di Lily. Comunque, non si fa male, perché noi la prendiamo... La vettorina non gli stringe il collo. Non gli stringe il collo e non gli fa male, anzi, la stupida si diverte che gioca poi. Via! Fribbling, azione! Guardate Lucia, guardate Lucia, attacca, attacca Lucia, attacca Lucia. Lì, 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 la para. Perfetto. Ora la scendo. Sono sexy con questi capelli. Ora la scendo. La vado a fare pipì. E, che cosa? Che cosa? Sto andando a prenderlo. Ah, 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 vieni qua. Ciuppettina, ciuppetta. È pronta? È pronta. Madame? Madame? No, scendi. Miss Lily. Scendi. Come on? Andiamo qua. Mi devo mettere il giubbotto. Vai, vai. Mettelo sotto carico, te l'è. Eh, siamo malati. Andiamo? Eh, vado a prendere il giubbotto. Bene, andiamo, eh. Ciao. Ciao. Ragazzi, sarò veloce. Stiamo mangiando. Qui, guardate quante, quante ci pare. Ecco, l'è arrivata, l'è arrivata, l'è arrivata, l'è arrivata. Stiamo vedendo un programma sul cielo. Sul cielo. I fungatti. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mi scaldiamo sul panino e poi ci mettiamo l'arco. No. No, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dai, buon appetito a tutti, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Wow, guardate. I baffetti c'ha. La pavetta c'ha sulla... Sì. Ciao. Ragazzi, guardate che bel pannino. Pzzzzz. Hai... Hai pure il lettone già. Pzzzzz. Oi. E lì, non lo sta a te. Non è a te. Sarai fatturato. ok ha quel pigiamino da 9 giorni bugiardo sei un bugiardo di prima categoria grida sei un bugiardo di prima categoria allora ragazzi vedetevi video si da 9 giorni vedi che io li lavo e poi siccome si asciugano a prezzo me li rimetto si mo li lava lei certo mo dice che li lava si vedono quando io mi piego le robe una donna che piega le robe ma certo ho i panni beh ragazzi cercherò di essere conciso e breve sono l'una e un minuto che fa? si guarda le zinne no avevo un capello avevo un capello in mezzo alle zinne aveva le zinne in mezzo a un capello che carino ragazzi non voglio dileguarmi bravo la giornata è stata così frivola lo so il video non è stato un gran che domani ci abbiamo da fare ci dobbiamo andare presto domani dai faremo dei video appassionati appassionati dai beh vi ricordo di iscrivervi al canale di commentare di commentare di condividere di seguirci sulla pagina facebook su instagram su twitter e che più? condividere commentare l'ho detto già bravo e bu perciò ragazzi buonanotte ci vediamo domani ciao ciao a tutti buonanotte crema per gli anni arda crema per anni cremani buonanotte